Un tizio va in un ristorante, si siede, arriva al cameriere e gli dice Le porto il menù? No, no, mi porti un cucchiaio Lo annusa bene e indovina tutti i primi E il cameriere è stupefatto Va bene, che cosa vuole di secondo? Mi porti una forchetta Annusa la forchetta e indovina tutti i secondi del ristorante Si arriva al dessert Vuole il dessert? Sì, mi porti un cucchiaino Allora il cameriere pensa Ora lo frego Va in cucina, prende il cucchiaino Gina! Dice alla moglie, tirati giù le mutande Poi torna di là con il cucchiaino Il tizio lo annusa E sbotta Oh, baccaragina lavora qui adesso?